Iniziamo così questa puntata di Rotocalco Versilia, un bel ritrovato a tutti ed iniziamo con questo panorama bellissimo a Massaciuccoli nel comune di Massarosa. Siamo tornati di nuovo, più volte lo facciamo, lo facciamo ogni anno, a Tenuta Mariani. Siamo con il titolare di Tenuta Mariani, il titolare, quello che si occupa veramente a tutto tondo di questa che è diventata, è partita come una passione e poi è diventato un lavoro importante. Sì, ormai sono più di 12 anni che facciamo spumanti, vini e in questo periodo si raccoglie le olive e quindi si fa anche il nostro olio biologico extravergine. Ecco, io sono partita dicendo che tutto è partito, ce l'avevi già raccontato ma ci fa piacere perché sono le storie dei nostri imprenditori, le storie del nostro territorio che appassionano i nostri telespettatori e non solo quelli della Versilia, della provincia di Lucca ma anche tutti quelli della Toscana. Vogliamo dire e sappiamo che la Versilia è amata da tutta Italia, da tutto il mondo e sicuramente da tutta la Toscana. Quindi ecco, la tua storia parte un po' come una passione. Come hai iniziato? Hai iniziato tutto riscoprendo un pochino i territori e i terreni di famiglia che avevamo, i miei nonni e i miei zii facevano gli agricoltori, negli anni 50-60 c'erano le risaie, facevano il riso qui da noi fino agli anni 60, poi dopo facevano il grano, gli uliveti, che sono tanti uliveti terrazzati qui sulle colline fra Lucca e Viareggio, nel comune di Massarosa. E poi diciamo una ventina di anni fa insieme anche alle mie sorelle abbiamo deciso di ristrutturare i casali di famiglia dove abbiamo fatto un agriturismo e poi dopo è partita la passione per il vino. Cominciato come dicevete prima per scherzo, ma poi adesso è diventata, si può dire una cosa importante, l'azienda ha più di 7-8 dipendenti, facciamo 45 mila bottiglie, ci muoviamo a Vini Italy, andiamo a Merano Wine Festival, insomma ci muoviamo un po' in giro per tutta Italia e portiamo appunto i prodotti tipici qui della Versilia e diciamo qui intorno al Lago di Massaciuccoli anche in giro per l'Italia. Ecco, lo vogliamo sottolineare che hanno avuto veramente in pochi anni, no? Perché per farsi un nome ad un vino ci vogliono davvero tanti anni e invece in poco tempo questi prodotti sono molto amati al di fuori del nostro territorio, anche al di fuori del nostro territorio. Che cos'è che li fa amare così? Allora diciamo che in questi periodi o in questi ultimi anni c'è stata anche una riscoperta verso i prodotti naturali, i prodotti biologici, quindi le aziende piccole come noi che lavorano in qualità e che comunque fanno riscoprire delle cose che sembravano anche andate perdute diciamo riscontrano un bel successo e il turismo enogastronomico che va molto di moda ci ha veramente anche aiutato, ecco in questo periodo poi la nostra Versilia e le nostre colline sono ambite da tutti e quindi c'è veramente anche tanto turismo che poi si avvicina all'entroterra e quindi ci viene a trovare e a scoprire. Ecco e quella che era partita con una passione, piano piano con una produzione chiaramente più piccola si è estesa la produzione, si è estesa ad un numero maggiore come produzione di vino, di olio ne parleremo in questa puntata, anzi l'olio è protagonista e poi anche quella che è appunto la ristorazione o comunque la degustazione, sempre di più il bisogno di venire a assaggiare e poi metterlo insieme anche a un cibo del territorio, un prodotto del territorio, il pane, il formaggio, gli affettati. Ma sicuramente diciamo noi facciamo le degustazioni e c'è molta richiesta di degustazioni ma non tanto per venire a bere un vino, proprio per venire a farsi spiegare cosa stanno bevendo, l'abbinamento del vino, dello spumante con un cibo locale che può essere un pecorino locale, può essere appunto i nostri oli, le nostre bruschette, i nostri salumi che comunque qui nella Versilia ci sono molte produzioni anche di salumi tipici nostri locali e quindi diciamo riusciamo a abbinare tutte queste cose insieme alla sapidità e la salinità dei nostri vini tipici della Versilia e lasciamo anche un ricordo fondamentalmente della vacanza, del passaggio qui in Versilia. Tutto molto suggestivo. Tutto suggestivo e comunque anche tanti alberghi della zona hanno messo le degustazioni della nostra azienda nei loro pacchetti da offrire al turista che viene in Versilia. Ecco noi siamo venuti da te per la vendemmia un paio di mesi fa, tra l'altro la vendemmia quest'anno parliamo brevemente del vino e poi andiamo a parlare del protagonista di oggi che è l'olio. Sì quest'anno è stata una vendemmia veramente anticipata, abbiamo cominciato come si era già detto l'altra volta i primi di agosto per finire i primi di settembre, quindi quasi con tre settimane di anticipo. Chiaramente i cambiamenti climatici, il caldo ha fatto maturare prima le uve e quindi anche noi siamo stati costretti a... E quindi che vino è? È un vino buono, diciamo il tasso alcolico è un pochino più alto perché era già a metà agosto a livelli alcolici che di solito bisognava aspettare settembre, però non ha mai piovuto, le uve erano sanissime e quindi diciamo il prodotto comunque è venuto buono. Diciamo che per i puristi chiaramente il caldo sta, per i puristi, cose vere, i caldi e le state calde stanno mettendo la vite come tante altre culture in difficoltà, quindi le maturazioni troppo veloci diciamo che non è il massimo per un prodotto come il vino che ha bisogno dei suoi tempi e delle sue regolarità sia nella maturazione che poi nelle fasi di raccolta ecco. Quindi insomma bisogna abituarci, adattarci a questi cambiamenti climatici però insomma anche i prodotti non dico che mutano però insomma un pochino sì ecco. E invece l'olio che è il protagonista della puntata di oggi, intanto che olio è a seconda di quella che è stata la stagione. Allora anche per l'olio vale un pochino quello che abbiamo detto per il vino. Abbiamo cominciato a frangere, i frantori hanno aperto il 5, il 7 di ottobre come gli altri anni ma quest'anno ci siamo trovati a portare in frantoio già delle olive più mature rispetto agli anni precedenti. Quindi abbiamo accelerato molto la raccolta perché il primo olio è quello più verde, diciamo che ha anche quel pizzichente in più e quindi comunque stiamo raccogliendo e la raccolta quest'anno è abbastanza diciamo problematica perché in certi punti il troppo caldo della primavera ha fatto, ha creato problemi in fase di fioritura quindi c'è meno olive e in altri punti invece abbiamo la fortuna che le olive ci sono. Diciamo per esempio qui nella nostra zona i versanti verso Pietrasanta, Querceta c'è più raccolto, la zona qui Camaiore, Massarosa obiettivamente quest'anno c'è un pochino meno raccolto. Poi si salta il monte andando verso Lucca, diciamo noi abbiamo anche degli oliveti a San Macario, la parte di Maggiano dalla parte di là del Monte Chiesa lì la raccolta è più abbondante. Ecco, ma il sapore dell'olio, la densità e il sapore anche l'olio ha tantissime sfumature, gli intenditori le sanno riconoscere bene però anche chiunque sa sentire al palato il sapore, la freschezza, com'è quest'olio e com'è l'olio della nostra zona. Allora noi siamo fortunatissimi in Italia perché abbiamo innanzitutto più di 500 cultivar diverse di olio, quindi ogni regione ha il suo olio, quindi fondamentalmente abbiamo oli buoni in tutta Italia, però effettivamente il nostro olio qui della nostra zona come l'olio Ligure, l'olio del Garda, diciamo quello che arriva dalle olive un pochino più, che hanno delle caratteristiche diverse tipo il leccino, il frantoiano, quindi olive più piccole, danno una produzione minore ma danno una qualità diciamo superiore rispetto a altre varietà magari del centro o sud Italia. Il nostro olio si caratterizza proprio per il fatto che siamo verso il mare qui in Versilia e l'influenza della salsedina e quindi l'influenza del mare lo rende diciamo un pochino più leggero rispetto all'olio tipico toscano, quello del Chianti, quindi magari anche un po' più adatto ai nostri piatti a base di pesce. Però diciamo il primo olio che arriva adesso è veramente una cosa adattissima per le cruditelle, le insalate, addirittura io non uso quasi mai il sale perché comunque l'olio di adesso è bello saporito e è importante e quindi basta lui per condire diciamo la pietanza. Ecco, noi non smettiamo mai di dire quanto fortunatamente c'è una maggiore richiesta sempre, ricerca, non solo richiesta ma anche ricerca da parte della popolazione verso i prodotti del territorio, i prodotti autotoni, i prodotti particolari, ma non solo per quanto riguarda i prodotti, anche la riscoperta di una vita, forse il covid insomma bene o male pensavamo che ci insegnasse tanto, forse ci ha insegnato molto meno di quanto non ci dicevamo su quei terrazzi, però poi qualcosa è rimasto. Dico tutto questo per arrivare al fatto che per esempio anche oggi tu hai avuto un matrimonio qua, cioè si pensa al matrimonio come sempre bellissimo per l'amor di Dio, ristoranti sontuosi eccetera, ma tu hai fatto tanti matrimoni qui seduti sulle balle di fieno ovviamente appositamente costruite eccetera, questa ricerca della natura di una vita diversa, meno costruita. Sì effettivamente siamo ai primi di novembre e oggi si sono presentate una quarantina di persone con l'abito da cerimonia e la sposa con l'abito da sposa, diciamo c'è anche questa riscoperta di cose più semplici e di cose genuine e quindi diciamo... Non solo da mangiare ma anche da vivere. Anche da vivere e quindi come abbiamo fatto, ma addirittura noi abbiamo fatto la richiesta per potersi sposare qui nella vigna e quindi abbiamo dal comune di Massarosa diciamo la possibilità di poter celebrare qui nelle nostre vigne il matrimonio, ne abbiamo fatti due a settembre, è venuto il vice sindaco con la fascia eccetera, quindi c'è anche questa ricerca di cose di una volta semplici e questo è molto bello e devo essere sincero di questo sono anche felice perché oltre a fare business, quindi vendere, fare anche il mio lavoro, è anche bello dare la possibilità di riscoprire questi posti, gli oliveti, i terrazzamenti qui sulle nostre colline, le vigne, il lago sullo sfondo, sono cose sinceramente che restano impresse e quindi oltre alla cerimonia c'è anche questo contorno. Noi filosofeggiamo spesso, ci conosciamo, i nostri telespettatori ti conoscono perché poi appunto sei spesso presente nelle varie manifestazioni del territorio, insomma ormai il tuo nome ha un seguito e anche un'importanza, ecco perché poi ci conosciamo già da un po' e spesso filosofeggiamo un po' anche sulla vita in maniera molto semplice, non abbiamo grandi pretese, però come si fa appunto a non filosofeggiare, a non parlare, quando ci troviamo così immersi nella natura da poter vivere più a lungo possibile? Eh sì, effettivamente anche gli antichi filosofeggiavano con una bruschetta d'olio, un fiasco di vino, quindi diciamo non si sta scoprendo niente, diciamo siamo un po' a rifare i percorsi che sono sempre stati fatti e comunque diciamo i nostri prodotti naturali, biologici e del territorio ci aiutano a questo, ecco. E infatti non a caso dovremmo usare, ma non solo come parola, ma usare proprio i metodi che ci portano ad una maggiore sostenibilità che poi alla fine vuol dire tornare un po' indietro e su questo credo che sia il modo migliore per chiudere la trasmissione e di invitare i nostri telespettatori in Versilia, non solo nelle spiagge della Versilia, ma anche nelle colline della Versilia.